Questa avvertezza può sembrare imbarazzante parlare di noi, ma in realtà noi non parliamo dei giornalisti della Gazzetta, parliamo dell'informazione in Puglia e in Basilicata e di ciò che per l'informazione in Puglia e Basilicata questa testata ha rappresentato da sempre. Quindi è una battaglia per il diritto di informare e di essere informati. Io sto con la Gazzetta non è solo un hashtag, ma è un patto di fiducia tra lettori e il quotidiano che da oltre 130 anni racconta la storia del nostro territorio. Un presidio di informazione ultracentenario che ora rischia a causa di un'avvertenza giudiziaria di essere cancellato. In gioco non c'è solo un giornale storico, ma il diritto ad informare ed essere informati perché l'informazione è un valore fondante della democrazia. Fino ad ora sono state prenotate circa 13.000 copie dell'edizione del 29. L'acquisto di una copia in più della Gazzetta del Mezzogiorno è un gesto di solidarietà, sia per sottolineare l'importanza del quotidiano, ma anche per sostenere un'avvertenza che riguarda i tanti lavoratori, ma soprattutto i cittadini di Puglia e Basilicata. Che cosa significa la prenotazione di una copia in più? È evidente che non serve a risolvere i problemi del giornale, però è un segnale forte dal territorio che sta a dimostrare il legame che queste due regioni, Puglia e Basilicata, hanno con la testata e a ricordarlo a chi ci amministra da lontano e che fino ad ora ha cercato di applicare dei criteri un po' ragioneristici che andrebbero bene forse per un supermercato, per un'altra azienda, che ovviamente non possono attanagliarsi invece alle esigenze di un'azienda editoriale che edita un quotidiano. Domani c'è l'incontro con Emiliano della Task Force. Che cosa vi aspettate da questa riunione? I giornalisti e anche i lavoratori poligrafici sono pronti a fare dei sacrifici per la salvaguardia del giornale prima che dei posti di lavoro, ma ovviamente vorrebbero anche che questi sacrifici avessero un risultato certo e non fossero fatti al buio.